Alle nostre spalle c'è l'impianto di Terna che collega l'Italia con il Montenegro. C'è anche questa protesta pacifica oggi di alcuni residenti, di alcuni operatori della zona. Perché questa protesta? Quali sono i motivi? Sostanzialmente noi siamo preoccupati per la nostra salute in quanto questi impianti sono stati costruiti a ridosso delle nostre abitazioni e nessuno ci garantisce quali siano gli effetti a lungo termine sulla nostra salute. Anche in considerazione del fatto che mancano per la realizzazione di queste opere molte autorizzazioni che abbiamo avuto modo di appurare attraverso l'accesso agli atti che abbiamo effettuato presso il nostro comune. Quindi noi siamo preoccupati, soprattutto siamo preoccupati per il futuro dei nostri figli in quanto non solo nasceranno in una zona piuttosto degradata dal punto di vista visivo ma anche e soprattutto perché sappiamo che l'elettromagnetismo ha degli effetti anche dal punto di vista delle mattie del sangue su diciamo le ocemie infantili eccetera eccetera quindi nessuno ci riesce a garantire che... Noi sono anni che parliamo, che ci facciamo sentire, che facciamo accesso agli atti, che parliamo con il nostro comune purtroppo le istituzioni appaiono sorde alle nostre richieste, nessuno ci rassicura e quindi siamo piuttosto arrabbiati per questo motivo. In passato sono arrivate rassicurazioni sul fatto che questo non sarebbe un impianto pericoloso per la salute? Dicono sempre così però io vedo qua gente che si ammala giornalmente e quindi non lo so, si dice una cosa e se ne fa un'altra ma è una cosa che tutti sanno, tutti, però cercano tutti quanti di far finta di niente anche nelle nostre istituzioni quindi noi qua veniamo a inaugurare una cosa fatta illegitamente dei sviluppi del secondo lotto per la telecentrale qua ovviamente quelli di inaugurare illegitamente fatte che non hanno autorizzazione per fare queste opere sappiamo che soldi da Terna sono stati stanziati i comuni hanno ricevuto dei soldi però qua nella zona nostra hanno fatto tutta altra cosa che salvaguardare un po' al limite il nostro territorio perché qua come ti ripeto vedi noi qua non condiamo e non valiamo più niente, zero